buon pomeriggio a tutti allora volevo fare i peperoni in agrodolce inizio prima di tutto con con tagliare con il tagliare i peperoni dopo averli passati sotto l'acqua lavati tengo i semi perché lo sapete ho iniziato a fare semenziario semenzaio scusatemi semenzaio e siccome non so se gli altri semi dei peperoni metteranno adesso tengo da parte questi così poi vi farò vedere un altro modo se non avete il contenitore quello di polistirolo con i buchi per poter fare per poter mettere a giacenza i semi tagliare speccionino e poi a pezzi tolgo la parte bianca ecco qua ancora due semini super stiti ok adesso ho messo a soffriggere l'aglio una pentola antiaderente con un po di olio e poi aggiungerò i peperoni in una ciotola ho preparato 20 ml di aceto un cucchiaino di zucchero e un po di sale adesso vado poi ad aggiungerlo ai peperoni metterò un coperchio lascerò cuocere per 15 minuti poi si possono servire o caldi o a temperatura ambiente come accompagnamento alla carne o quello che si si vedi e mangiate anche semplicemente così e buon appetito a tutti ciao